Numero 5. Il climatizzatore Daking Dual Split permette di raffreddare e riscaldare due ambienti con una sola macchina all'esterno. Gli split hanno una potenza di 7000 e 12000 BTU. Il climatizzatore è molto silenzioso. Per quanto concerne l'efficienza energetica, qui abbiamo una macchina inverter in doppia classe A++, ottima per il risparmio energetico. Il sensore di movimento ha due aree e, la possibilità di controllo Wi-Fi e altre funzioni. Numero 4. Tra i climatizzatori Daking, il modello FTX-M35M si distingue per le sue funzionalità elevate e per la sua tecnologia d'avanguardia. Il prezzo di vendita è elevato, ma la classe energetica più consente di risparmiare tantissimo sui consumi. Per quanto riguarda le funzioni, segnaliamo il sensore di movimento che direziona automaticamente il flusso d'aria in zone dell'ambiente non occupate da persone che nel caso non rilevi niente entri in modalità risparmio energetico. A questo si aggiunge il purificatore dell'aria Flash Streamer che consente anche a chi soffre di allergie o asma di respirare meglio. Il climatizzatore risulta anche estremamente silenzioso. Numero 3. Anche qui ci troviamo di fronte a un Daking molto apprezzato per le caratteristiche che da sempre contraddistinguono questi elettrodomestici. Per esempio la bassa rumorosità, quasi tutti gli utenti hanno infatti sottolineato la silenziosità dello split interno. Si tratta di un 12000 BTU e, come gli altri modelli visti qui, vanta la tecnologia inverter e include la pompa di calore. Il climatizzatore è in doppia classe a più.Non c'è la predisposizione per il Wi-Fi, ma per il resto non manca niente. Le tante funzioni disponibili, deumidificazione, ventilazione, timer, modalità notte e risparmio, consentono di ottenere le migliori prestazioni in ogni condizione. Numero 2. Si tratta di un climatizzatore moderno e completo, può essere usato come deumidificatore. La classe di efficienza energetica in raffreddamento è a più più, quindi ottimale. Naturalmente si tratta di un modello inverter a cui non manca la pompa di calore, per poterlo utilizzare anche in inverno. C'è il telecomando e anche la predisposizione per il controllo in remoto tramite Wi-Fi, però il modulo non è incluso, perché va acquistato a parte. Numero 1. Il modello 12000 BTU risulta il miglior climatizzatore dei King perché ha tutto quello che serve e viene proposto a un prezzo competitivo, il che ne fa uno dei più venduti online. È ideale per un ambiente di 25-30 metri quadrati. Come tutti i modelli più moderni, anche questo ha la tecnologia inverter che assicura risparmio sui consumi, maggiore silenziosità, minore usura della macchina perché il motore non si accende e spegne di continuo. La pompa di calore consente l'utilizzo tutto l'anno, non solo in estate. La notevole efficienza energetica è dimostrata dalla doppia classe a più di appartenenza, sia per il caldo che per il freddo. Grazie a tutti!